Sì, questa iniziativa commerciale, il treno turistico, è un'intuizione della nostra divisione ferroviaria, capitanata dal dottor Enrico Dolfi, che sta riscontrando un enorme successo di pubblico. Tutti i nostri treni sono sempre sold out, quindi non riusciamo a soddisfare la richiesta. Ed è un modo nuovo di fare turismo, la possibilità di conoscere ancora meglio le bellezze del nostro territorio, in questo caso specifico le nostre aree interne, che sono meravigliose, e soprattutto stiamo riscontrando un grosso successo da parte del pubblico dei giovani, che è una cosa anche importante questa, ma del resto loro sono quelli che si avvicinano in maniera più spontanea al concetto di mobilità moderno, che tra i primi vettori richiama proprio il treno. Quindi la nostra divisione ferroviaria è in corso di implementazione, tanti sono gli investimenti che TUA sta facendo in questo settore, che è un settore complicato, richiede risorse sempre più professionalizzate, ma la divisione ferroviaria è un vanto della società TUA e quindi, come abbiamo detto nel nostro cronoprogramma, che avremmo dedicato particolare attenzione, così sta avvenendo, e lo stiamo dimostrando con gli investimenti, con le iniziative e con anche la formazione che facciamo verso gli uomini che ricoprono questo settore della nostra attività. È un'attività che a noi interessa molto, perché in pratica abbiamo avviato una nuova linea di business, che è sicuramente anche più romantica rispetto al trasporto pubblico locale, perché in qualche modo va ad enfatizzare, va a rimarcare una nostra competenza tecnica, una nostra peculiarità, che è quella del ferroviario, ed una peculiarità della nostra regione, quindi le bellezze che ha la regione Abruzzo. Unendo queste due peculiarità in un servizio nuovo, abbiamo fatto un qualcosa che piace all'utenza, che rappresenta il territorio e che rappresenta anche per noi un'ulteriore fonte di ricavo. Oggi iniziamo una nuova, chiamiamola così, era della divisione ferroviaria, con un servizio a mercato che riguarderà il turismo ferroviario, che oggi è in grandissima scesa in tutto il territorio nazionale. Faremo questo primo viaggio inaugurale per Canistro, per la Sagra della Castagna. Dopodiché abbiamo un impegno fittissimo fino al 6 gennaio con altri 11 treni, tra cui Arielli, Celano e sei corse sull'Aquila, perché l'Aquila ha un cartellone di festività e di ricorrenze natalizie molto importante. Il Tour Operator mi ha appena detto che ha venduto tutto quanto il treno, per un totale di 210 posti in circa quattro giorni, con 250 persone in lista d'attesa. Da qui capiamo l'importanza di questo nuovo asset che la divisione ferroviaria e TUA avrà al proprio interno e che sicuramente sarà oggetto di grande sviluppo nel futuro. Domenica l'inaugurazione di questo meraviglioso treno, questo meraviglioso materiale che TUA ha acquistato e che oggi viene qui presentato per il secondo anno consecutivo, quindi dalla collaborazione nata nel 2023 con la 45esima Sagra, si arriva quest'anno alla 46esima Sagra della Castagna-Roscetta, un evento unico e imperdibile per il nostro comune, ma in generale per la Valle Roveto, per la Marsica e per l'Abruzzo intero, e 200 persone che arriveranno con questo treno appunto a canistro, in questo viaggio esperienziale tra sapori, odori, profumi delle nostre tradizioni. Speriamo, come è stato anche per l'anno scorso, che sia un'esperienza bella, indimenticabile per tutti i viaggiatori che hanno voluto quest'anno acquistare il biglietto e arrivare a canistro. Ovviamente è un viaggio nel nostro Abruzzo, si parte dalla costa, si arriva, quindi si percorre tutto l'Abruzzo interno e si arriva quasi ai confini con il Lazio, perché comunque la Valle Roveto è un territorio di passaggio tra l'Abruzzo e il Lazio e appunto i visitatori avranno la possibilità di guardare, di osservare, di ammirare i meravigliosi paesaggi e le meravigliose bellezze che il nostro Abruzzo offre.